Cerca la concentrazione Micah Hancock e può partire il suo servizio, studito e insidioso. Ace Micah Hancock, secondo per lei. Atleta che dal servizio ha sempre dimostrato una grande qualità, cura problemi per Cuneo. Micah Hancock, ottimo il suo break nella rotazione precedente e non ci smentisce. Va a servire la numero 12, un altro Ace, 20 a 20, parità. Nel frattempo c'è un Ace, guarda caso, ancora lei, Micah Hancock, con la maglia del Ligor Volley. Ancora Micah Hancock può andare a servire. Ace numero 7 per Micah Hancock, quinto punto per Novara. Micah Hancock al servizio. Profondo il suo servizio e termina in campo, non calcola bene la traiettoria Giorgia Zannoni. Otto Ace fin qui per l'americana, che cerca e trova il nono Ace. Ed cerchiatevi bene questo punto, perché ha completato, ha battuto il record che prima aspettava a Hayley Spellman e a Valentina Zago. Anche loro avevano tenuto 9 Ace. Micah Hancock raggiunge anche lei il punto numero 9 dei 9 metri. Mi era da margine per migliorare questo... Per staccare e andare in venta solitaria. E così è chiamato da coach Matteo Ingranta, Micah Hancock, 10 Ace record nella storia della Serie A 1 femminile.